Questi truccano l'anima, vivono dal trucco. La santità è un trucco per loro. Gesù sempre ci chiede di essere veritieri, ma veritieri dentro al cuore. E che se qualcosa appaia, che appaia questa verità, quello che è dentro al cuore. Per questo è quel consiglio, quando tu preghi, vai, farlo da nascosto. Quando tu digiuni, lì sì, truccati un po', perché nessuno veda un po' nella faccia la debolezza del digiuno. E quando tu dai l'imosina, che la tua mano sinistra non sappia quello che fa la destra, farlo da nascosto. Grazie. Grazie. Grazie.